Sì, certo, se no qua è tutta la gente in piedi e dietro. Dai che bello recintato! Chiamato! C'è un giorio di dormino, sono statui nel pranzo di l'esercito! C'è un giusto? Vabbè, c'è un gius di parte per aver guardato! Non lo si, c'è un gius di una verona con una verona con una verona! Sì 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 Allora Sì Sì Sì